against the tides è il titolo che il fotografo milanese andrea francolini che dal 2000 vive in australia ha scelto per la sua esposizione di fotografie dedicate alla marine industry emblema della mostra allestita al boutique hotel ilio dell'isola delba dal 4 giugno al 28 ottobre 2008 non a caso è l'opera house and nomades nato nei primi anni 70 francolini ha studiato negli stati uniti e in svizzera ed ha lavorato in giro per il mondo dopo aver iniziato la carriera in europa nel settore del graphic design la sua specializzazione ora quella di yachting photography e le sue immagini sono pubblicate ovunque in europa nord america australia e isole della sud pacifico ha seguito molte importanti gare di vela in giro per il mondo come la route de room la wheat bread race around the world la volvo ocean race la louisditton cup e tante altre francolini fotografa il mare declinato in eventi acquatici sport ritratti resort e immagini di viaggio scattate in tutto il mondo e le sue opere si integrano perfettamente allo spirito del boutique hotel ilio